Acquistare o affittare una casa, l'eterno dibattito è spesso dettato dai prezzi elevati degli appartamenti, dalla difficoltà nell'ottenere un mutuo e dall'aumento in tutta Europa degli affitti. Per far fronte a questo problema, in Belgio si sta diffondendo l'edilizia sociale. Oltre all'edilizia sociale, che prevede la possibilità di acquistare dopo un periodo in affitto nello stesso immobile, e che in Belgio rappresenta ora il 6%, un'altra alternativa è la condivisione di un alloggio con più persone, opzione più economica rispetto all'affitto di un monolocale o bilocale in autonomia. Con il co-living si sta anche diffondendo la condivisione abitativa tra giovani e anziani. A Bruxelles molti studenti hanno deciso di vivere con persone rimaste sole, in appartamenti spesso molto grandi, per alleviare loro la solitudine e pagare un affitto calmierato.